Stai incazzatissimo oggi Ah mi devo riprendere sto giocando una merda Sto giocando una chiave questi giorni Non capisco Sono delle volte che gioco come un drago A volte che gioco come il primo ritardato proprio E non so cosa Cioè a cosa è dovuto questo mio downgrade Mentre gioco Dalle persone che trovi contro Da come ti va la connessione Dalle patch che cambiano Ma no perché Sti ultimi giorni ho giocato da dio Non ti scordi come si gioca da un giorno all'altro Non è che non mi scordi Non so se mi trovo in delle situazioni Svantaggio molte volte Ok ho la mitraglietta Bravo Bravo Che palle sto coso puttolente Ce l'ho pure io Manco l'ho usato Vedi un po' C'è qualcuno al parco? Qua sei morto subito Sì sì perché ho ammazzato l'amico Aveva solo le granate Perché di che non so ancora Ti avvettono le casse qua Una dove hai rotto E mannaggia Ma hai rotto proprio nel punto Dove c'era il buco Bastardo Adesso ho finito Ah ma volevo andare giù Io per quello ho rotto là Non dovevo No perché lì c'hai il tetto Quindi ti copri Se c'è Se devi sparare qualcuno dall'alto Invece se così devi bucare da un'altra parte Il coso Il tetto Tactic Oh no è giusto Oggi mi sono visto le partite Che avete fatto In team Vabbè ma stavamo trollando Come scemi Ah è chiaro Ma se vede Però cioè Quando c'hai quattro persone Su cui poter fare affidamento È pulito Ma sì Stai tutto il tempo a trollare Vedi un'ora Andiamo Tutti a fai coglioni Che urlavamo Come scimmie C'era etnik Sono stanzito Un secondo Perciò che non trovo Cioè guarda Io lo adoro Cioè proprio Potrei impazzire Nel modo di giocare Che ha Però non lo vedo Molto adibito Al divertimento No non lo è Andiamo a bomba Marzone Quanto è bella questa canzone Quanto Questa la mette in aprile E' quella che è presa Da una canzone Che i pop Ah se puono venita Ne fad Prima lo teniscono Util dati Perché Me ne frego un ca Eh perché Stano Gli azione Vapò il loro gioco Questi Non li piace Cioè a me non lo so Perché mi piace un po' Questo gioco di merda Mi piace tantissimo Ma io Cioè pure a me piace Tanto Fortnite Però Tipo non Cioè non sono Di quelli che ci si fissa Cioè io Certa gente È addicted È addicted È addicted Ma perché è unico Nel suo genere Cioè mo Arriviamo e scherziamo Ma veramente Sono inventati Una cosa unica Omar Zopronto a scenda Mamma mia Andiamo Rip Rip Piccolina Eccoli 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 Nassitivot 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 60 Scutato due volte Scutato C'è anche l'amico Mi tira una snippata L'amico Bravo Marzo Blockato Bravo Marzo Spamalo tutto Vai Marzo Pusha Pusha Balla Stronzo Ma guarda che Mi tocca Dove è andato? Giù Non ci provo Mi sono andato Incazzatissimo E ho visto E sono andato a 2000 Devo giocare sempre Caramel danzen Pum ma vado a sentire Grandi raga Sapete sempre tutto Ma veramente Stiamo andando? Vai Zuku 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 Dobro Bella Jean Q Mi voglio uccidere Che succede? No non dir così Che succede? Mai più Cosa? Mai più il lancerati teleguidato Mai Perché ti ha sparato da solo? Mai Cioè ti ha mandato il missile contro il muro da solo? Ma che Ma che Sono ritardato Spider power Spider power Ma come? Do si nido? Eh qua di fronte E va da quello che ti spara Oh che cristo Ah sono più di uno che mi sparano Cato 27 bianco Andato giù? Andato giù Noccato l'altro Bravo Marzo Oh mia Ciao baby Questo non era manco Dead stront E ha giocato Ho notato Però Però si è spaventato Quando gli abbiamo cominciato a sparare in due c'ho uno davanti no benvenuto nei trimuni ok stai giù bello da casa ok ragazzone ok così devo giocare a 2000 cazzo devo andare povero me è la situazione eh marzo perché se gioco lento poi non riesco più cioè mi viene tipo la pennica capito? devo andare a due ecco qua le band eccole qua c'è tutto qua è seguirti che mi diventa difficile con 50 di legno per altro vieni vieni qua c'è pieno di roba vieni ok li ho visti li ho visti stanno fai danno 184 bouncer niente niente bouncer neanche io ne ho l'amica one shot sotto uno sta dietro la cosa gravitazionale fatto mamma mia sono un puro fuoco devo giocare così sempre cazzo c'è uno dietro esatto non so da dove non so da dove non so da dove non so da dove quelli lì sono due one shot aspettare se riusciamo a farli non ho una bouncer ma stanno troppo in alto giù ma va mo li vado a prendere porco due ma va va quello sta correndo quello sta correndo ah merda non riesci a spaccare tu ma il legno come? ti ho dato 400 eh non l'ho preso evidentemente ma come non l'hai preso? ti ho lasciato 500 di legno che cazzo ti devo difrar c'ho 30 da 6 oh tu zio quelli si stanno menando dietro che situazione di merda oh devi fare il bravo eh dov'è? è sceso giù ah summer skirmish dov'è quello che ti spara? o l'ho visto? oh fan bene ho visto pure io quell'altro c'è un check jug c'è un check jug c'è un altro stronzo non so dov'è l'altro marzo eh non li vedo io quest'anno a nord west ma non li vedo e l'altro sta a nord est dietro quell'albero grosso c'è una skin cola bianca ok l'ho visto c'è uno sotto di me ah eccolo lì bravo vai marzo spara fatto noccato uno bravissimo c'è un lanciarazzi se riesci a prenderlo se riesci a prendere quel lanciarazzi e utilizzarlo sarebbe la cosa migliore da fare in questo momento al tizio che ho ucciso a destra a destra marzo devi sparare a destra sono andati a destra sotto di noi c'è uno dentro questo cubo aspetta io vado sopra ancora sotto di noi c'è un cubo vittato 24 ma in che senso bloccato di nuovo sta andando a restarlo vittato ancora 24 bianco ho visto eh 47 giù 47 headshot è tipo morto ok quello sotto di noi chissà dove è finito ora oh mo mi sento un attimo più me stesso sto giocando devo giocare super veloce se no mi addormento io c'ho sto problema un problema importante quale ti è questo ti è questo ragazzi non è che faccio paura con l'ago che l'arma essendo hitscan i colpi dove sparo entrano non devo scalcolare niente è quella la cosa in più c'ha l'ottica quindi è una cosa in più ce l'ho davanti tutte e due ce l'hai razzi ancora no ho preso le bende lo devo prendere io non ti preoccupare dove stanno davanti a me sopra il ponte headshot va sul colpo di air porca droga mi ha sperato qualcun altro ma non lo devi far curare vittato ancora bloccato l'altro questo ha tirato il porta a porta devi sparare non dobbiamo farlo restare ci dobbiamo muovere a breve dobbiamo andare l'amico l'ha abbandonato ecco lo gio è uscito si si ma io mi devo curare io mi devo curare e sta arrivando la zona Marzò Marzò sta arrivando la zona se tu lo distrai io gli sparo con l'agog però non ti devi far rittare spariamo tutte e due va è salito sopra quando vuoi eh con l'SMG da lì non lo prenderai mai Marzò ma con questo si let's go boom baby ah così cazzo che devo giocare a tromba super veloce super fast oh fatti il panico let's go questo è Marzò non sei morto ma ci penso io uguale che non hai fatto un cazzo in game non è vero 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 non è vero